Emergenza educativa in tempo del covid, come è nata l'idea di questa bellissima iniziativa al centro pastorale San Giuseppe? Ecco questa iniziativa nasce fondamentalmente dall'esigenza che abbiamo visto e vissuto diciamo così nel campus in modo particolare alla ripresa delle lezioni dopo il periodo del covid quindi della didattica a distanza abbiamo notato una certa difficoltà ecco da parte degli studenti del mondo giovanile ma anche da parte di vari attori dell'università, docenti o personale di riprendere la presenza quindi di riprendere anche quella trama di relazioni quel prendere il caffè insieme ad esempio e quindi una preferenza di starsene magari a casa e sorge una domanda è sorta così una domanda da questa domanda dialogando molto con il mondo giovanile un dialogo che è continuo in particolare alla cappella universitaria dove insomma cerco di svolgere il mio servizio lì nasce questa difficoltà grande ecco abbiamo visto come è nata questa difficoltà grande di uno spaisamento soprattutto ecco del mondo giovanile a seguito di questo tempo già ci sono delle difficoltà possiamo dire così quasi strutturali del mondo giovanile ma ancora di più accentuate dal periodo pandemico e quindi ecco insieme ad alcuni docenti al centro per l'orientamento sicuramente un po' l'attore principale di questo momento abbiamo pensato di vivere un momento di riflessione insieme dove poter appunto cercare di capire che cosa poter da un lato fare ma anche soprattutto su quali basi poter riflettere per l'attore